Il nostro programma si chiama Un calcio alla radio, oggi facciamo una cosa diversa, portiamo la radio nel calcio, però il calcio è quello vero, quello che tutti noi sogniamo di andare a capire, cosa succede dietro le quinte, quel terreno di gioco cosa rappresenta, perché si arriva a quello. E abbiamo con noi oggi l'onore di avere Leonardo Mantovani, che è un pezzo di storia del Napoli, perché fa parte dei Napoli costruiti con Benitez, del Napoli dello Scudetto, di un po' di squadre che hanno fatto esaltare i tifosi del Napoli, soprattutto quella dello Scudetto. Leonardo oggi anche per lui è una veste nuova, perché di solito è abitato a parlare ai corsi con il pubblico, oggi invece qui davanti ad un microfono, non so se è la prima volta in assoluto, ma penso poche volte ti sia capitato. Innanzitutto grazie per l'invito e sono qui con grande piacere. No, è passato più che altro tanto tempo dall'ultima volta che ho fatto un intervento o in televisione o alla radio. Sicuramente è la prima volta qui a Napoli. Sì, io partirei da quello che, perché tante persone, tutti i tifosi, che poi sono l'anima del calcio, si chiedono ma cosa fa uno scout? Cosa fa un osservatore? Cosa fa un direttore sportivo? Io partirei da raccontarci come funziona di solito, come si prende un giocatore, come si costruisce una squadra? Quante ore abbiamo? No, quando vuoi, tanto nel caso tagliamo. Allora, io comincerei col dire che il termine scout ormai è un po' desueto, anzi no, non è desueto, è poco adatto a quello che è effettivamente il lavoro che noi facciamo all'interno delle società. Perché per scout, se andiamo a tradurre letteralmente, dovremmo parlare di esploratore. Quindi andare in territori sconosciuti, a trovare un qualcosa che ancora non si conosce. Quando fai, diciamo così, lo scout, cioè colui che deve ricercare i giocatori in una scuola di calcio di un altissimo livello, come è il Napoli, in realtà si tratta di non tanto andare a scoprire dei giocatori che non si conoscono, quanto più che altro andare a selezionare dei calciatori che si pensa possono essere quelli adatti e ad analizzarli, a studiarli e da lì a capire se sono i giocatori giusti per le necessità del club, ma in particolare... C'è una parola che usate spesso, funzionale nel calcio? Diciamo funzionale a quelle che sono poi le vedute dell'allenatore e di cosa si aspetta l'allenatore da quel giocatore inserito nel contesto della squadra. Ti faccio un esempio, tu hai vissuto un acquisto che ha fatto la storia del Napoli perché è il centravanti del terzo stupetto, la popoliniere da quell'anno, no? Che è Vittor Osimè. Osimè, sì, sì, sì. Magari io in questa tua descrizione che hai fatto mi sono immaginato un po' come è andata, no? Come poteva andare un acquisto del genere. Ce lo puoi raccontare? Perché poi a volte, sentendo parlare gli umili di calcio, a volte si fa un acquisto quando se ne voleva fare un altro, capitano delle storie interessanti. Beh, sì. Dunque, Osimè è proprio un caso perché a me capita di vedere Osimè in una partita che era Ajax-Lil di una Champions League di quell'anno, ma in realtà noi eravamo andati a vedere gli esterni bassi dell'Ajax, Mazzaroui a destra e Tagliafico a sinistra. Tornando indietro, io faccio il mio report, la mia analisi della partita e dico che c'erano altri due giocatori forti in quella partita. Uno era Sumaré, un centrocampista, e Osimè, questo attaccante che correva tantissimo, da solo copriva tutto il reparto, forse correva anche troppo, ma era veramente grande lavoro e praticamente imprendibile. Però tornando indietro, dico innanzitutto che i terzini erano forti dell'Ajax, o i difensori esterni bassi, mettiamola così. E però dico anche che in quel momento Osimè non era il giocatore che faceva il caso nostro, era forte, ma non era quello giusto, perché in quel periodo giocavamo con Mertens, prima punta che faceva però il falso 9, veniva dietro, cuciva, palla sui piedi e faceva quel tipo di gioco lì. E Osimè giocava in modo completamente diverso. E perché poi si prende Osimè? E perché andiamo a prendere Osimè? Perché poi questi ragionamenti li facevamo quando era l'anno della Coppa Italia con Gattuso, che subentra, e Gattuso ragionava dicendo che questa squadra in questo momento ha dei problemi, è un po' timorosa, preferisco giocare un po' più basso. Ci chiesi il centrocampista centrale per fargli un po' da play, per fare un riferimento durante la festa. E ne prendeste due però. E ne prendemmo due perché abbiamo preso Lobotka e Diego Demme. Alla fine la stagione diventa una buona stagione, andiamo a vincere anche la Coppa Italia. Così l'anno successivo Gattuso diceva, è andata bene, io continuerei a giocare in questo modo, ma a questo punto mi serve un attaccante che può sfruttare gli spazi, la profondità, che abbia corsa. E allora a quel punto, andando a rivedere tutti gli appunti, tra le varie segnalazioni eccetera, viene fuori, ritorna fuori Ozyman e a quel punto diciamo, questo è il giocatore che fa per noi, è quello che chiediamo, quello che ci chiede il mister. Però due giocatori ha nominato, Lobotka ed Ozyman. Ozyman fu pagato abbastanza, quindi si poteva immaginare che potesse il suo valore crescere ancora di più. Quando prendete Lobotka, una ventina di milioni più bonus, a mia memoria, era il prezzo, dal Celtavico, ti aspettavi che diventasse questo qui? Oggi è uno che Fabregas, in un'intervista post partita, Fabregas, e dice datemi 11 Lobotka. Allora, io Lobotka lo conosco da quando giocava nella nazionale under 17, e lui giocava in un 4-4-2 e faceva il mediano a 2. Quando lo andammo a vedere in Spagna, lui giocava ancora, sia come play, ma giocava spesso come ancora mediano in un centrocampo a 4, quindi era uno dei due centrali. Ma nella relazione fatta, io avevo scritto che secondo me per le caratteristiche poteva anche essere un play. Devo dire che questa cosa, Cristiano Giuntoli me l'ha sempre riconosciuta. Leggendo un po' quello che tu avevi scritto, ha contribuito a formare il suo convincimento che potesse essere il giocatore giusto. Visto che l'hai nominato, possiamo sfatare un mito che è circolato con il suo addio, che è giuntoli alla fine, prima della stagione disastrosa, si diceva che alla fine facevano tutti gli altri, gli osservatori, Micheli e Mantovani, si diceva, e Cristiano era lì, al massimo il raccordo tra presidente e squadra, possiamo sfatare questo mito? Ma no, non penso che si possa dire una cosa del genere, nel senso che noi eravamo un gruppo e si lavorava tutti insieme, poi ognuno aveva la propria responsabilità all'interno del gruppo, il proprio ruolo, ma i giocatori venivano comunque analizzati tutti insieme. Poi è chiaro che Giuntoli era il direttore sportivo, aveva poi il rapporto con l'amministrazione, con il presidente, e in qualche modo l'operazione la portavano avanti loro. Tra l'altro quella squadra è un capolavoro. Ma è un gruppo, è un gruppo che lavora sul... Anche in termini gestionali, perché è una squadra che in estate vanno via Ospina, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Koulibaly, infatti c'è contestazione, il presidente della Aurentis lo vediamo direttamente l'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, tra Di Maro, Di Maro non esce mai, e prendete Kim, Quaraskelia, giocatori che conoscevamo soltanto che ha detto ai lavori. Sì. E nel frattempo si dimezza quasi il Montengagli, c'è il taglio molto forte, e vince dopo 33 anni lo scudetto. Ci racconti un po' su perché viene preso Kim, come viene preso Quaraskelia, cioè come viene fatto quel lavoro, e se ci credevate? Che potesse far meglio il Napoli rispetto a quelli lì che avevano fatto la storia. La verità è che nessuno poteva dire in quel momento che avremmo vinto lo scudetto in quel modo, perché poi non dimentichiamoci come è stato vinto quello scudetto. Noi sicuramente eravamo convinti che fossero degli ottimi calciatori, potremmo avere un mezzo dubbio, ma il dubbio non era tanto sul calciatore, ma sulla resa, perché torniamo sempre al solito discorso. Cioè il giocatore bravo, lo vediamo tutti, tutti quelli che insomma seguono il calcio, o insomma addetti ai lavori o meno, ma la vera bravura sta nel trovare il giocatore giusto, che svolge quel lavoro che è funzionale alle richieste dell'allenatore e funzionale alle caratteristiche e a ciò che anche gli altri calciatori possono fare quando sono messi tutti insieme. Il carasveglia, io mi ricordo che personalmente la nota che avevo fatto era questo è un ragazzo di grandissimo talento, se il mister gli fa capire che un dribbling di troppo manda fuori giri Osimène, qui questo è un giocatore straordinario, è fondamentale. Ti faccio un link col presente, come si fa oggi, è il carasveglia di oggi con Conte, tra l'altro che in conferenza stama di presentazione dice io voglio che alterni un po' il lavoro in ampiezza e che venga dentro al campo? Beh, queste poi sono cose che sono attuali nel Napoli e quindi sicuramente il mister avrà pensato questo e ha le sue ragioni. Non è che sia sull'agricisticamente questa... Beh, lui più accentrato ci gioca anche in nazionale, quindi sicuramente immagino che il mister Conte sappia che cosa sta facendo, ma non solo, non è poi un mio pensiero, basta vedere i risultati, basta vedere il Napoli di oggi che è una bellissima squadra e è fortissima, tanto equilibrio, è veramente una gran bella squadra il Napoli. Guardando a questo Napoli, abbiamo parlato delle note belle, no? Scudetto, però paragonandolo a quello che è accaduto ora, quest'estate, ci racconti cosa è successo? La domanda mi facevano tutte le persone per strada l'anno scorso, dicevano, ma cosa è successo per arrivare da primi a decimi? Diciamo che forse certe scelte hanno fatto sì che le cose non funzionassero bene, adesso non saprei neanche, e vabbè, non mi sembra neanche, insomma, tirar fuori colpe o situazioni individuali. Diciamo che c'è stato un meccanismo che non ha funzionato, e però bisogna anche dire che il Presidente è stato bravissimo, perché a un certo punto ha capito che le cose non andavano, e ha deciso di cambiare, no? Di cambiare strategia, situazioni, tutto, e oggi vediamo i risultati, quindi devo dire che il Presidente ha avuto ragione anche stavolta. E per te io ho grande stima nei confronti del Presidente. Che prospettiva può avere questa squadra? Si parlava durante l'anno del nostro scudetto che Napoli fosse una città scaramantica, poi apparsi di tutti quei numeri tre in giro per la città, sembra che la scaramanzia sia stata sdoganata, quindi non nominiamo nulla, non diciamo nulla, ma Napoli ha tutto per essere una squadra che può arrivare fino in fondo, tranquillamente. È proprio forte il Napoli. Quando hai iniziato a vedere quei tre, quelle bandiere, stando all'interno, quando ti chiamano era Napoli-Fiorentina la partita, giusto? Al fischio finale, quando si fa la prima... Il festeggiamento dello scudetto? Sì, sì. Ti chiamano come... Che non abbiamo vinto a Udine lo scudetto, no? Sì, che guardi quello stadio pieno, festoso, riconoscendoti il ruolo di star dentro, non fuori. Che emozione è? Eh no, è un'emozione enorme, e devo dire che quello è un bellissimo ricordo, e che penso che conserverò per sempre, cioè vedere l'emozione vera in tante persone che normalmente hanno un'altra vita, che come dire, o hanno soddisfazioni da altre situazioni, oppure non ne hanno, vederli così commossi, con una commozione sincera, che non è quella del ragazzino, del ragazzo giovane, del tifoso, che ancora, insomma, non sa cosa farà da grande, ma parliamo di gente che aveva già il suo spessore, o comunque persone che avevano la loro vita alle spalle, vederli così commossi, è stato un trasporto molto bello, molto enorme, è qualcosa che mi rimane ancora dentro. E ti chiedo a questo punto se magari pensi di poterci tornare a lavorare per il Napoli, se ci fosse l'opportunità. Ma io alla fine ho passato undici anni nel Napoli, quindi ho un legame fortissimo con il Napoli, con Napoli, con tutti quelli che lavorano nel Napoli, ma con la famiglia del Presidente, con il Presidente, con i suoi ragazzi, e io mi sento a casa nel Napoli, quindi chi lo sa? Vedremo, magari, non lo so. Noi stiamo viaggiando un po' su flussi temporali diversi, perché ho parlato di undici anni, sono tanti undici anni. Eh sì. Per me il Napoli cambia con voi quando arriva Rafa Benitez, perché c'è una svolta epocale in termini di filosofia di gioco che il Napoli si trascina fino allo scudetto per dieci anni. Ci racconti un po' che era quella riunione a Liverpool, a casa sua, con Benitez, come si sviluppa quella squadra che ha fatto la storia? Quella riunione fu a Londra. A Londra, sì, giusto. Ma sì, in realtà, ma in realtà già il Napoli di Mazzarri, con Cavani, Lavezzi, Amsic, eccetera, è una squadra molto forte. Secondo me quello che ha portato Benitez è una specie di consapevolezza di essere una squadra che per sua natura poteva stare tra i grandi. Stare in Champions è diventato con Benitez una cosa naturale per il Napoli. Essere così internazionali, avere i giocatori che vengono da Real Madrid, è un livello molto alto e credo che Benitez ha portato la consapevolezza di essere anche noi tra i grandi. Arrivano gli giocatori che avrebbe mai pensato che nel Napoli era da Gonzalo Eguain. Questo, ma poi se è andato a giocare delle partite che normalmente forse neanche pensavi di poter giocare. Ti dico, mi viene in mente quella semifinale di ritorno di Coppa Italia con Maradona sugli spalti. È incredibile. Sì, ma in termini anche di spessore di squadra, una squadra che aveva insieme Albiol, Cagliecon, Mertens, Iguain, Pandev che aveva fatto il triplete con l'Inter. È vero, Mazzarri costruisce le basi. Però quello che alza il palazzo che poi magari si affaccia sull'attico con lo scudetto è... Quella partita con il Chelsea magari potevi essere un ospite in quella circostanza. Sì. Con Benitez invece è la consevolezza di poterci stare. Sì. Di poter parlare la stessa lingua delle squadre che normalmente vanno in Champions League. E il Napoli ormai è una di quelle società. Infatti, penso che ci tornerà dopo questo anno sabbatico di parentesi con la settimana tipo. Mettiamo una cosa che proprio potrebbe diventare anche... E questo è veramente il grande lavoro del Presidente. Sì, assolutamente. E ti chiedo in prospettiva, no? Il Presidente nel prossimo quinquennio parlando quando ha celebrato i suoi vent'anni ha insistito molto sulle strutture, no? Centro sportivo, stadio. È quello l'ultimo passaggio per rendere il Napoli consapevole di essere tra le grandi non solo sul campo. Qui entrami in un argomento che onestamente non mi compete. È chiaro che effettivamente le grandi squadre hanno anche dei centri sportivi importanti. Però, se il Presidente ha parlato così avrà parlato con cognizione di causa. Sicuramente è consapevole anche di questo. Tu arrivi al Napoli nel 2010 non inizi al Napoli perché pensi molti pensano che hai iniziato la carriera al Napoli è morto prima è Udinese Brescia Brescia con In realtà Brescia perché l'Udinese era una collaborazione esterna Tu hai anche a Brescia quando Mazzoni era sotto la curva giusto? Sì, sì ed ero vicino c'era Guardiola in tribuna. Che cosa? Cioè, racconti un po' quella storia dall'interno dalla persona che lavorava con Mazzoni In realtà cioè, puoi sapere l'episodio in sé Sì, ma anche come nasce come il personaggio Mazzoni No, beh Mazzoni era una di quelle persone che tu quando conosci come dire riconosci la sua grandezza cioè sei consapevole di fronte una persona che ha tanto da insegnare poi era all'inizio della carriera in una squadra di calcio perché quello che tu facevi menzione dell'Udinese io lavoravo nello studio di Dario Canoi e noi lavoravamo con l'Africa in particolare io l'avevo fatto l'avevo fatto noi che eravamo lì dentro ti ricordi non so Beppe Dossena calciatore abbiamo portato a fare l'allenatore della Nazione vegana quindi è lì che cominciavamo a ragionare insieme su come fare le squadre come lavorare con gli allenatori eccetera ma io lavoravo dentro questa agenzia e l'Udinese era una nostra come dire cliente che si affidava al nostro scouting all'epoca sì veramente scouting esplorazione in Africa per andare a prendere questi giovani talenti parliamo del 96 97 98 quegli anni lì ma non era un rapporto diretto con l'Udinese nel 2000 2001 l'anno di Mazzone e di Baggio io vado a Brescia e arrivo con Baggio e trovo Mazzone l'anno dopo viene Guardiola ho avuto la fortuna di trovarmi in un contesto come erano Baggio Guardiola Tony in allenamento no Baggio era una cosa incredibile mi ricordo ancora che il primo giorno d'allenamento fece un semplice movimento di corpo e tutta la difesa avversaria andò da una parte e lui con un picco con un diretto la mise vicino al palo gol aveva fatto una grandissima cosa tecnicamente con cui ho lavorato beh forse sì sì al vivo hai visto anche Maradona però ti dico da persona con cui hai lavorato cioè calciatore che hai visto la cosa che impressionava di Baggio è che faceva delle cose di una estrema difficoltà tecnicamente di un livello altissimo ma le faceva con una naturalezza che sembrava un gesto che poteva fare chiunque e non era così io Baggio poi l'ho conosciuto alla fine della carriera quando veramente lavorava fino a mezzanotte per rimettere a posto i muscoli le ginocchia quando tutti gli altri stavano a casa quindi l'ho visto alla fine ma Baggio era incredibile così come l'anno dopo quando arriva Peppe Guardiola impressionante era la personalità Peppe faceva impressione e ti immaginavi diventasse un allenatore migliore al mondo eh questo non lo potevo dire però sicuramente tutti sapevamo che sarebbe diventato qualcosa di importante perché era uno diverso Peppe è un po' eh come quando vai a teatro e vedi un attore che è da solo sul palcoscenico ma ti sembra di vedere cento persone sul palcoscenico è in grado di riempire con la sua presenza la sua personalità tutto tutto lo spazio che hai davanti è impressionante il vostro lavoro come tutti ha cambiato molto con la tecnologia no? sì eh tu hai visto evolvere nascere risorse come Wisecout per esempio sì beh questa è diciamo così un altro aneddoto però c'è ancora molti direttori dicono sono ancora affezionati secondo me anche giustamente a guardare la partita dal vivo a vedere il giocatore dalla tribuna qui è cambiato un po' è cambiato molto il modo di andare a vedere le partite allora Wisecout eh che io entro nella forma perché magari ci sente chi non come dicevi tu fa altro nella vita è una piattaforma dove puoi vedere praticamente le partite di tutto il mondo tutti i calciatori e selezionare anche le singole giocate di ogni singolo calciatore ruolo per ruolo devi sapere che quando io come entro nello studio Canovi nel 96 perché aveva un'antenna parabolica motorizzata e anche Micheli ce l'aveva quindi insieme io quando parlo con Alessandro Canovi l'attuale agente di Tiago Motta e studiiamo insieme all'università e dico guarda io ho questa cosa e quindi ho tantissime partite di calcio internazionale parliamo di un'era in cui c'era tele più bianco e tele più nero e tu compravi l'evento con la chiamata telefonica quindi avere il satellite che ti permette di vedere da la Scandinavia fino al Nord Africa era tanto per chi doveva fare ricerca dei calciatori scouting quello vero e per caso quando andammo nello studio di Canovi c'era Domenico Ricci che era responsabile del calcio africano che aveva chiesto la partita di andata di una Champions League africana e noi avevamo calda la cassetta di VHS all'epoca della partita di ritorno allora lì ebbe l'intuizione che questi ragazzi hanno un qualcosa di straordinario ed abbiamo cominciato a lavorare nello studio Canovi questa tecnologia delle antenne paraboliche l'ho portata l'abbiamo portata a Brescia a Brescia anche oggi credo sul centro sportivo di San Filippo ci sono queste antenne paraboliche orientate sui vari satelliti e che succede che a un certo punto io introduco un progetto che era quello di avere un club satellite in Belgio all'epoca per il Brescia era l'Union San Giro all'epoca e poi non è andato in porto ma a Brescia c'era l'acciaieria del professor Gozzi che è il presidente dell'Entella il quale avendo visto quello che noi facevamo con i giovani attraverso questo sistema per puro caso un giorno mi disse guarda ho questi ragazzi che hanno questo progetto e mi hanno chiesto di finanziarlo di lavorare con i satelliti per fare un servizio ai club puoi sentirli come stanno impostando il lavoro eccetera da lì io incontro Matteo Campodonico che era ideatore di Wyscout l'anima e hanno fatto il loro percorso ma è nato questo servizio ma noi già eravamo con ovviamente non avevamo un sistema così accurato per vedere le immagini selezionare le giocate che oggi ha Wyscout ma anche Wyscout riceve il contributo nostro che appunto avevamo già questa dimestichezza con le antenne paraboliche e il calcio satellitare facendo sempre il giochino di andare dentro oggi è diverso per esempio voi sapete che va via Coulibaly molto prima bisogna prendere il nuovo Coulibaly mi viene l'ansia già solo a trovare uno che possa mettere la stessa frase di quel Coulibaly poi anche il nuovo insigne un nuovo intendo che vada a occupare quella zona di campo poi le caratteristiche ovviamente sono diverse come funziona si selezionano si arrivano le segnalazioni c'è una lista quello è il nostro lavoro alla fine perché giustamente se il presidente di un club decide di vendere un giocatore erano i primi delle liste che avevamo sicuramente erano tra i primi poi dopo anche lì ci sono state fatte delle valutazioni e poi anche la singola circostanza se prendere uno c'erano altri giocatori un po' come Mazzuray e Tagliafico e poi hanno fatto ah sì sì no no beh certo erano c'erano più più giocatori sia nel ruolo di Kim che nel ruolo di di Coulibaly in questo caso e poi di anche di insigne caro lì lì però ti ripeto va come succede normalmente fai quello che è il mio compito il mio lavoro era quello di lo stesso percorso certo che cosa succede che quella che era la mia mansione era quella di fare queste liste selezioni di giocatori potenzialmente adatti a sostituire quel giocatore poi ti trasformi in algoritmo umano cioè devi essere tu che vai a valutare quel singolo calciatore e capire se è quello come diciamo prima funzionale che può fare il lavoro che gli chiede l'allenatore perché il difensore centrale forte c'era però quello che avrebbe fatto quello che il mister voleva facesse è altro allora qui hai questa lista di giocatori che io ottengo per quello che è il mio lavoro da una selezione che fai attraverso dei filtri e sulle varie piattaforme di dati ottieni questa lista di giocatori alla quale poi aggiungi le segnalazioni che ricevi dagli agenti dai procuratori che ovviamente sanno che ti serve il terzino difensore centrale e ti propongono i loro assistiti e tu fai le tue valutazioni e poi altre segnalazioni varie che possono arrivare da varie da altre varie fonti metti insieme i giocatori e cominci a fare le tue analisi poi dopo al di là della valutazione tecnica che quello è un giocatore giusto da prendere o meno dopo subentrano anche tanti altri fattori come da dove viene quanto costa quanto guadagna la fattibilità vera e propria dell'operazione capito quindi non è semplicemente il lavoro di scouting quello che serve per poter prendere un calcio qual è il rimpianto che hai il giocatore magari che avevate selezionato che eravate vicini a prendere e che non l'avete preso se c'è ma no sai ricordo dell'Aurentis parlo di Uland che fu sì sì no beh Haaland Haaland come no ci abbiamo siamo arrivati anche lì anche Haaland però ce ne saranno stati altri eh sì infatti poi dopo è un'operazione che hanno chiuso altri altre cifre in altri modi no dicevo ci saranno anche altri giocatori che magari avevate individuato ma ma guarda in realtà noi eravamo sempre su tutti i giocatori che potevano essere ideali poi ripeto c'è il giocatore che non puoi prendere quello su cui eh non eh sai già che eh ok magari venisse però sai anche già che è difficile che possa venire capito però non c'è un giocatore in particolare non mi viene in mente un giocatore in particolare che dici è sfumato non l'abbiamo preso eh alla fine quello che noi volevamo prendere in qualche modo siamo sempre riusciti a a prenderlo insomma ecco le cose che non hanno funzionato era perché probabilmente non non potevano funzionare magari ci abbiamo provato ma ma non sono andati in porto poi ci sono una volta anche storie extracampo che guidano gli acquisti non mi viene in mente Diego Temme che che magari forse se non si non avesse avuto quel nome quelle origini quel genitori che avevano un rapporto emotivo forte con Napoli non sarebbe venuto sì sì questa è un'altra è un'altra un'altra aneddoto nel senso che che torniamo in quel periodo Diego Temme viene perché ad un certo momento l'operazione Lobotka ha dei rallentamenti e però Gattuso ci chiedeva il centrocampista da mettere lì davanti la difesa e quindi noi cominciamo a fare i nostri lavori con le le varie liste le varie selezioni con tutti i nomi e era difficile trovare il play ma nel nello studio del dei vari come dire interpretazioni delle partite viene fuori che Demme è vero che giocava in un centrocampo a due ma quando l'Ipsia si metteva con un rombo con un play davanti alla difesa era lui quello che giocava lì e aveva fatto un terzo un quarto delle partite nel suo campionato in quel ruolo e così su due piedi diciamo questo non lo prendiamo mai perché è il capitano dell'Ipsia sono primi in classifica ha fatto dalla serie C da dilettanti fino a essere primo in serie A nella loro serie A e questo non ce lo danno siamo a gennaio non ce lo danno mai ma effettivamente leggere il nome Diego ci ha fatto tornare in mente un altro episodio cioè tempo addietro quando cercavamo il terzino sinistro quando poi abbiamo preso Goulam era venuto fuori questo Diego contento non so se te lo ricordi che giocava col Bayer Monaco origini di casa al nuovo la famiglia ah questo non lo so qui vanno ecco io andai a parlare con il papà Monaco di Baviera era una famiglia non più lui aveva dei fratelli che giocavano ancora col Bayer Monaco e lui era grandissimo tifoso del Napoli per questo aveva chiamato Diego il figlio e poi sai per un napoletano che sta fuori sai ricordo la casa la famiglia e tutto quanto evidentemente la passione era ancora più forte e lui avrebbe veramente fatto di tutto per vedere il figlio vestire la maglia della passione della commozione dello scudetto probabilmente e il sentimento è quello lì probabilmente e che succede che quando arriva Demme Diego nato nello stesso anno voi vedete che anche questo c'ha un papà tifoso che è andato in Germania e che ha grande passione per il Napoli proviamoci e lì ci abbiamo provato e anche quasi inaspettatamente siamo riusciti a portare Diego Demme a Napoli che obiettivamente ci diede una grande mano anche perché fu l'anno che vincemmo quella Coppa Italia in una stagione onestamente un po' sfortunata sì l'ultima te la faccio perché parlando di Canove mi è venuto in mente Tiago Motta l'hai anche citato e Tiago Motta è l'allenatore che doveva sostituire Luciano Spalletti per idea di gioco per assonanza no? lui è italiano erano i nomi che in prima fila in quella estate dei 40 nomi il casting poi arriva Garzia perché Tiago Motta non è voluto a Napoli? e se sarà un grande allenatore se ci vedi un po' di quel guardiola di cui hai parlato ai tempi del Brice allora perché Motta non viene a Napoli io non ho partecipato alle discussioni alle riflessioni fatte e quindi non so perché poi dopo come sono andate le cose mi sarebbe piaciuto certo perché lo conosco dai tempi in cui allenava la primavera del Paris Saint Germain che peraltro ne abbiamo incontrato Newt League Newt League facendo anche 0-0 a Parigi e che succede che a me sarebbe piaciuto avere Tiago Motta insomma proprio perché mi piaceva come giocava mi piaceva come quello che aveva fatto a Spezia in uno Spezia con il mercato bloccato quindi ha inventato i ruoli dei giocatori e vedevi veramente giocare dei ragazzi che si che si prestavano a fare delle cose che normalmente non gli appartenivano era quando a loro Spezia non poteva fare il calcio mercato e poi anche successivamente è quello che ha fatto a Bologna quindi onestamente sarebbe era chiaramente uno dei allenatori preferiti ci rivedi Pep ma l'origine è sempre quella perché lui viene comunque dal Barcellona è lo stesso Barcellona di Peppe Guardiola ma ci vuoi mettere dentro anche Arteta con l'Arza e sono un modo di giocare una filosofia una strategia che è comune a tutti questi allenatori guarda quello che fanno fare ai terzini quello che faceva fare Motta nel Bologna l'anno precedente con Cambiaso o quello che gli faceva fare l'anno scorso con Lucumi e Calafiori sono tutte come dire no giocate tipiche di quel tipo di Calafiori fa quello che fa Stones sì capito è proprio un marchio di fabbrica l'ultimissima è su di te a me sì perché ormai c'è la domanda cosa farei da grande adesso perché l'intervista l'abbiamo fatta io mi auguro di non poterla fare più perché vuol dire che ho firmato un'altra squadra e beh siamo per vari motivi non ancora non lavoro in un'altra squadra e e magari non so qualche chiamata c'è stata qualche chiamata c'è stata insomma qualche contatto c'è stato qualche cosa qualche cosa però poi non ha funzionato mettiamola così e quindi e quindi sono ancora in attesa però perché no magari nel breve invece ritorno ancora a non poter tornare qui a venire a fare te lo auguriamo ti ringraziamo perché penso che possiamo dire che ti abbiamo intervistato in esclusiva una esclusiva vera perché erano la gente non era abituata a conoscere la tua voce il tuo pensiero il tuo lavoro beh sì io sono sempre rimasto dietro le quinte insomma e di aver scelto Radio Napoli Centrale per raccontare quello che è stato il tuo lavoro e raccontare la tua professionalità seguirete questa intervista sul nostro canale youtube appena sarà tutto sarà tutto pronto approfitto per ricordarvi anche gli appuntamenti di Radio Napoli Centrale tutti i giorni in diretta dalle tredici alle quindici e con l'approfondimento che trovate sempre sul nostro canale youtube a cui vi invito ad iscrivervi ad abbonarvi a mettere like l'approfondimento quotidiano del punto C la rubrica che curo vi abbiamo regalato questo viaggio nel mondo del calcio mi auguro che potete godervelo insieme a noi grazie a tutti e grazie soprattutto a Leonardo grazie a voi grazie a tutti